Ok, allora, buongiorno a tutti. La mia missione è quasi senza speranza, nel senso che sarebbe di descrivervi il curriculum di interazioni fondamentali che è una cosa super vasta, nel senso che, come forse sapete, anche a livello di ricerca Pisa ha una tradizione enorme in questo campo qui, vi dico solo che, forse sapete che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è l'ente finanziatore, diciamo, della gran parte di queste attività, e a Pisa ci sono quasi tutte le attività in cui l'Italia è coinvolta sono presenti a Pisa, cioè si contano sulle dita delle mani quelle che non ci sono a Pisa, quindi è difficile radunare tutto quanto, ma cercherò, per questo motivo, di darvi un'idea, non tanto, magari, dell'elenco dei corsi, eccetera, delle slide, ci sono moltissime slide perché vi rimarranno qui, avrete dentro tutte le informazioni che volete, ma non ve le illustrerò tutte, ve le lascerò per chi poi fosse interessato. Cercherò invece di magari togliere un po' le curiosità a chi conosce poco di questa parte della fisica, di quello che si insegna, per darvi un po' le risposte che magari gli studenti hanno indicato come più interessanti. Quindi vi parlerò essenzialmente un po' di che cosa studiamo, perché lo studiamo, come sostanzialmente, ovviamente qualcosa su come lo implementiamo nei corsi di studio, e poi anche cose di ma che cosa si fa veramente, cosa fanno veramente questi fisici qui che lavorano in questo campo, e cosa potrebbe fare uno studente dopo aver imparato queste cose. Allora, l'oggetto, vabbè, è chiaro, lo sapete tutti quanti, ci sono quattro forze che si chiamano le nostre interazioni fondamentali, queste, quelle che conosciamo da cent'anni a questa parte, e le chiamiamo fondamentali perché non ci sembra che ci sia niente di più fondamentale di questo, e con delle differenze di modalità di studio sono l'oggetto di questo grande, diciamo, curicolo, le interazioni fondamentali, quindi compresa pure la gravità. Le domande a cui si cerca di rispondere sostanzialmente sono quelle vecchie come la natura, di che cosa è fatto il mondo e cosa c'è dentro, e pian piano si cerca di scoprire qualche strato di più, in modi che per definizione sono non predicibili, nessuno sa quando avverrà la prossima scoperta, quando si scoprirà che tutto quello che sappiamo non è vero, oppure c'è qualche anomalia. ci sono cose di cui il mondo è fatto, detto nella slide prima, ci sono cose di cui il mondo non è fatto, ma che possiamo studiare lo stesso, perché ci sono un'infinità di particelle che normalmente in natura non abbiamo, ma che possiamo produrre negli acceleratori, ma che si producono anche negli eventi cosmici, senza che noi ci mettiamo mano, e cose come i neutrini, che di nuovo sono ubiqui intorno a noi, però non l'abbiamo mai saputo, perché non è facile rendersene conto che ci sono, la materia oscura, eccetera. Quindi tantissime cose che ci sono dentro, e questa è una solita slide che ci dice, vabbè, adesso tutto quello che sappiamo lo possiamo condensare, la nostra tabella periodica degli elementi è diventata questa qui, dopo cent'anni, che è anche più piccola di quella precedente, però lascia, diciamo, un mucchio di domande aperte. Quindi ci sono le interazioni fondamentali, in realtà, e le loro particelle, le particelle che mediano queste interazioni fondamentali, o che le subiscono. Quindi questo è l'argomento di studio. Però ci sono un sacco di domande a cui non sappiamo dare risposta, perché ci basterebbe per spiegare al nostro mondo due o tre cose, come si pensava all'inizio del Novecento. Un protone, un elettrone, più o meno siamo quasi arrivati, mettiamoci anche un neutrone, ma basta, la natura che intorno a noi, sulla Terra, è fatta di questo. E tutto il resto, perché c'è, a cosa serve, nel disegno, diciamo, di come funziona la natura, perché le particelle hanno quelle mani, masse invece di altre. E poi, grande mistero, cosa c'entra in tutto questo? La gravità, che sembra una cosa totalmente slegata per tanti aspetti. Più, come sapete, come avete già sentito parlare anche nelle presentazioni precedenti, abbiamo scoperto che nell'universo di queste cose strane che non sono sulla Terra ce ne è pieno. Anzi, la maggior parte del nostro universo è fatto di questo e non sappiamo assolutamente cosa sia, per cui quando non sappiamo cos'è, gli diamo dei nomi, diciamo, ah, questa è la materia oscura. come se sapessimo qualcosa. Oppure, se sappiamo ancora di meno, diciamo, ah, questa è l'energia oscura. Non vi ho più pali d'idea, però gli diamo un nome e ci sembra di sapere qualche cosa. Quindi, da scoprire c'è tantissimo. Per riuscire a scoprire, normalmente, nel 99% dei casi, c'è bisogno di una scoperta fortuita, non fortuita, studiata, ricercata, che viene da un esperimento, da qualche cosa. quindi il metodo è quello che, la cosa forse più importante che cerchiamo di insegnare anche in questo corso delle interazioni fondamentali. Il metodo è che delle volte si fanno, che si cerca sempre di trovare le cose che non si capiscono. Il brutto, diciamo, è quando tutto si capisce, il bellissimo è quando è tutto talmente complicato che non si capisce niente. Quello è il momento migliore. Ci sono stati vari periodi che si alternano, questi momenti, in un momento in cui non si capisce niente, poi la gente inizia a avere le idee più chiare e poi dopo un po' di mori cominciano a capire nulla e quindi vuol dire che c'è tantissimo da imparare. Come si fanno queste cose? Allora, di nuovo, è molto diverso perché parlo di tante cose diverse, quindi di tante tecniche diverse. Una di quegli principi ormai che sono tradizionali, se vogliamo, a questo punto, è la fisica degli acceleratori che sono con noi da quasi da un'ottantina di anni e quindi si prendono particelle che conosciamo, quelle terrestre normali, si fanno collidere tra di loro o si mandano su un bersaglio e si studia cosa avviene fuori. A volte si studia cosa avviene fuori senza sapere cosa avviene fuori, proprio per puramente vedere che cosa ci sarà. Molto più spesso si studia cosa avviene fuori sapendo che cosa si vuole andare a cercare cercando di capire come e in che modo e quantitativamente perché le cose succedono in un modo piuttosto che in un altro. Tradizionalmente questo mondo delle interazioni fondamentali uno dei modi di dividerlo è in queste tre frontiere, cioè l'espansione della conoscenza in tre direzioni diverse che fanno tutte parte diciamo di questa fisica delle interazioni fondamentali. Una è la cosiddetta frontiera dell'energia dove cerchiamo di realizzare dei processi che non sono mai stati realizzati prima sulla Terra e quindi non sappiamo cosa possa nascere da qui. L'esempio più clartante è stata la scoperta del bosone di Diggs che finché qualcuno non ha realizzato un acceleratore sufficientemente potente non era visibile sulla Terra. Da un'altra parte c'è la cosiddetta frontiera dell'intensità che invece richiede magari non energie eccelse ma una quantità di eventi grandissime perché si vanno a cercare delle cose che succedono ma succedono molto raramente e le cose che succedono frequentemente le abbiamo capite da tempo ed è tutto chiaro quelle che succedono più raramente o magari che si pensa che non succedano mai ma in realtà poi si scopre che delle volte accadono e dove c'è qualcosa di veramente da capire. E la terza che inizia a mischiarsi con le cose che avete appena sentito è la frontiera cosmica. Qui apro una parentesi non pensiate che queste presentazioni che vi facciamo in questi giorni dei vari curriculum eccetera siano degli oggetti delle camere stagne cioè ogni ogni argomento che trovate magari si incentra di più su un certo curriculum ma ci sono tante cose che si sovrappongono quindi non è che dovete pensare ah mi metto a fare questo curriculum e mi sono tagliato per sempre la possibilità di imparare quelle altre cose non è assolutamente così tutte le cose si toccano e poi ci sono delle enfasi diverse sui vari aspetti allora brevemente perché non voglio diciamo dirvi andare nei dettagli ma soltanto darvi un'idea abbiamo detto la frontiera dell'energia va bene acceleratori molto grandi abbiamo adesso l'HC a Gineva l'acceleratore più potente del mondo e si pensa si sta studiando anche a Pisa la generazione successiva di queste macchine qui che però se voi andaste a guardare con la radiografia quello che c'è sotto l'acceleratore del CERN vedreste che intorno ce ne sono tanti altri tante altre macchine che a suo tempo erano la frontiera dell'energia la macchina più potente che c'era in cui si studiava ma non è che adesso le sono state buttate via perché dice vabbè ne abbiamo fatto una migliore in realtà oltre a essere funzionali a far funzionare l'acceleratore più grande hanno tutti dei campi di ricerca loro propri che sono appunto la frontiera invece dell'intensità non più quella dell'energia e qui vedete vabbè semplicemente come negli anni non si può leggere non si può leggere le scale ma la salita delle energie che c'è stata negli anni per cercare di andare in questa direzione quindi questo è il futuro un anello di 100 km che si pensa che potrebbe essere fattibile quello che vedete invece a sinistra e in alto è il primo acceleratore della storia stava in una mano capite che la differenza è grande anche nell'impegno nella complessità nei tempi che sono necessari per realizzare queste macchine dicevo la frontiera dell'intensità invece dove si fa? beh si fa in tutti quei posti dove ci sono macchine che sono su grado di realizzare un grandissimo numero di collisioni tutte le cose che vi faccio vedere sono tutti laboratori di ricerca che sono in giro per il mondo in cui in qualche modo i gruppi che lavorano a Pisa sono coinvolti a fare questi esperimenti che sono in Giappone sono negli Stati Uniti sono in Europa ovviamente quindi acceleratori diversi che studiano eventi diciamo rari e cercano di fare dei controlli e dei cross check per vedere dove se e come ci sono delle discrepanze perché delle discrepanze sappiamo che ci devono essere perché ci sono delle cose che non capiamo ma non sappiamo da dove vengano quale sia il punto esatto dove c'è un problema sappiamo che il problema c'è ma non sappiamo da dove viene e quando parlo di fisica di intensità è perché dobbiamo cercare delle cose che sono molto molto rare molto difficili da trovare allora immaginatevi una scala questa è una scala quantitativa degli esperimenti che devono misurare una qualche cosa che ha una dimensione di una frazione di micron come se fosse diciamo molto meno di meno di un capello però sopra di questa c'è un fondo di eventi non interessanti che è alto 800 metri quindi non è un ago in un pagliaio è un ago in 100.000 pagliai da trovare ok e la terza frontiera ovviamente vi ho detto su questa spenderò meno tempo non perché sia meno importante ma perché quella che si sovrappone di più con gli altri curriculum che sono stati presentati prima è quella cosmica perché queste particelle sappiamo essere anche alla base della comprensione dell'universo e tante di queste ci vengono non possiamo accelerarle magari noi o crearle in laboratorio ma ci vengono gratuitamente dallo spazio i metodi sperimentali richiedono strumenti e qui in questo caso siccome stiamo facendo ricerche di frontiera gli strumenti non ci sono non li potete comprare gli strumenti vanno inventati e vanno costruiti una grande parte della attività di fisici sperimentali è proprio quella che consiste nel cercare di creare le macchine gli strumenti che servono a fare queste misure non esistono perché non li potete trovare perché non sono mai stati realizzati prima e gli strumenti sono molto diversi a seconda del tipo di fisica che volete fare ci sono rivelatori che sono tipicamente degli oggetti molto grandi molto complessi fatti di tanti piccoli rivelatori che sono stati realizzati nei vari laboratori come quelli anche di Pisa che poi vengono assemblati insieme per fare un qualche cosa di più completo la sfida della sfontiera cosmica qui anche sui rivelatori ovviamente è chiara questi oggetti devono andare spesso nello spazio magari e quindi dove non potete intervenire e dove avete delle difficoltà completamente diverse nel gestirli nel farli funzionare i dati che sono raccolti vanno interpretati siccome gli eventi sono rari spesso e le quantità di dati sono tantissime e quindi non è facile nemmeno analizzarli non li potete mettere su una penna e neanche su un sito web per poi poterli guardare e allora anche l'interpretazione dei dati richiede delle tecniche che spesso non ci sono e che vanno inventati o che adesso magari invece si mediano da altre tecnologie dalle tecnologie dei big data che vengono utilizzate per fare cose completamente diverse i fisici delle interazioni fondamentali hanno una lunga tradizione nel rubare le tecnologie altrove e riutilizzarle in modi creativi per loro quindi adesso una parte dei curriculum per esempio è l'analisi dei dati perché è un grande problema ok dove si situa tutto questo nella storia nelle sequenze delle varie delle varie branche della scienza vabbè qui siamo siete tutti penso fisici quindi non offendo nessuno nel dire che nella storia man mano che le cose diventavano conosciute meno interessanti a un certo punto non erano più fisica venivano battezzate chimica e la fisica diventava un'altra cosa per andare sempre a cercare cose più interessanti ma qui spero che non ci siano dei chimici che si possono arrabbiare per questa affermazione la fisica delle interazioni fondamentali sta ovviamente nella parte di base della fisica vi ho detto ci sono legami strettissimi di quello che si fa con degli esperimenti con l'analisi dei dati le misure provengono dalle misure e con la teoria naturalmente e qui toccheremo poi il curriculum di fenomenologia che vuole essere cerca di essere un ponte tra questi due aspetti qua va bene ecco questo era l'altra legame che voleva farvi vedere come di nuovo non sono camere stagne questi oggetti il curriculum in interazioni fondamentali parla con quelli che avete appena sentito parla con altri che sentirete e attraverso la sviluppo di strumenti parla con curriculum anche che sembrano completamente diversi quindi i legami sono stretti non pensate di poter compartimentare queste cose qua gli obiettivi informativi del corso sono del curriculum diciamo sono quelli di comprendere la teoria che c'è dietro quali sono le tecniche che si utilizzano qual è la fenomenologia dei fenomeni che si vanno a studiare e dall'altra parte imparare anche il metodo con cui le cose si fanno cioè come si sviluppano gli apparati sperimentali come si acquisiscono i dati come si analizzano questi dati che sono spesso molto molto grandi qui lascio alcune slide e le flasho soltanto perché sono lì per riferimento cosa c'è scritto nel declaratorio del regolamento insomma eccetera piano di studi anche questo non voglio spenderci troppo tempo ma se intanto lo conoscete e ci andrete attraverso se volete ci sono tutti i dettagli qui è sostanzialmente invariato da quello che c'era negli anni scorsi se non per un corso nuovo che è stato introdotto in questo gruppo qui che è quantum technologies for fundamental interaction physics su cui non mi dilungo perché ci sarà una presentazione dedicata a questo proprio perché è una novità e poi un grande numero di corsi a scelta non qui sono raggruppati gli stessi corsi per tipologia tra di loro quindi i corsi diciamo di laboratoriali i corsi di ok di tecniche i corsi di legati più allo spazio eccetera ma di nuovo qualunque dubbio su questo siete semplicemente invitati a venirci a chiedere a parlare se uno vuole sapere quale corso devo prendere oppure no eccetera flasho anche soltanto i curricula che si toccano ma non ci vado attraverso perché ci sono le presentazioni dedicate sia filmologia che data analisi e fisica dell'universo che l'avete già sentita vi menziono che ci sono dei casi di curricula che sono anche di doppio diploma con altre università per cui è possibile fare degli scambi e avere o conseguire proprio un doppio diploma alla fine si svolge una tesi che è una tesi impegnativa naturalmente che dura tipicamente nove mesi e che consiste nello sviluppare un progetto autonomo che può essere di tipi molto diversi ecco questa è la slide su cui volevo fermarmi un secondo perché alla fine gli studenti dicono sì ok è tutto bello interessante eccetera ma cosa fa poi veramente uno che lavora in questo campo qui ecco di nuovo è una risposta che non si può dare nel senso che ci sono fisici sperimentali delle interazioni fondamentali che fanno cose completamente diverse cioè c'è chi disegna gli esperimenti c'è chi li fa funzionare che ci si occupa di sviluppare nuove strumentazioni c'è chi analizza queste grandi molli di dati c'è chi sviluppa algoritmi di analisi per queste fasi dati e la cosa più bella interessante è che spesso nella carriera di un fisico non si fa sempre la stessa cosa ma uno inizia facendone una e poi se si è stufato oppure se viene affascinato da un altro aspetto migra su un'altra cosa quindi cosa fate cosa fa uno studente che studia un pochettino tutte queste cose qui come forse vi ho trasmesso gli si aprono diverse prospettive al di là del campo di ricerca specifico ovviamente che come sapete è una scelta affascinante difficile che comporta anche fatiche e rinunce ma che ovviamente è estremamente affascinante ci sono tantissime altre possibilità perché uno ha imparato cose anche molto diverse qualcuno ha imparato molto bene magari l'elettronica ed è molto ricercato per questi aspetti qualcuno è diventato esperto in tecniche di computing avanzate qualcuno è diventato esperto nello sviluppo di rivelatori innovativi che poi possono trovare applicazioni in campi completamente diversi quindi si aprono tante possibilità qualcuno diceva dopo che siete riusciti a far funzionare un rivelatore di particelle con il martello lo scotch con tutto quello che serve poi non vi spaventa più niente perché si tratta di partire da qualche cosa che deve arrivare dall'inizio alla fine e poi funzionare veramente va bene allora ho poi raggruppato semplicemente qui qualche domanda perché sono domande tipiche che gli studenti fanno tipo ah ma ci sono questi esperimenti grandissimi e poi appunto ci sono migliaia di persone in certi casi negli esperimenti più grandi e quindi uno la sua creatività non conta più niente non è vero perché immaginate di una grandissima industria in cui ci sono 20 dipartimenti diversi che lavorano su 20 cose diverse quindi l'iniziativa personale c'è sempre semplicemente nasce in un ambito più piccolo oppure sì ma sono cose molto molto astratte adesso questo non per chi magari fa vuole fare fisica teorica ma dice vabbè però poi nella vita quotidiana non servono a nulla allora qui si mette sempre l'immagine in questo caso di Tim Bendersley quando ha inventato il web che come sapete è nato dal CERN per scopi completamente diversi non aveva mai neanche lontanamente immaginato che l'avremmo usato per altro ma è venuto da lì così come rivelatori di tantissimi tipi di fisica medica che sono nati per fare fisica delle particelle elementari e poi sono stati applicati all'altra parte oppure qualcuno dice eh ma questo settore qui è un settore che ormai è finito perché si sa tutto non c'è più niente da scoprire esatto l'hanno detto anche nel 1900 esattamente la stessa cosa la fisica più o meno adesso è finita si sa tutto non c'è più quasi niente da imparare eccetera dopodiché nel giro di 20 anni o meno sono nate la relatività e la meccanica quantistica e tutti sono riprenditi da zero e ovviamente questo è quello che succede normalmente nella scienza che ci sono dei periodi stabili e dei periodi in cui ci sono le rivoluzioni e le rivoluzioni nascono soltanto quando uno va a cercare qualcosa che non aveva mai cercato prima perché quello che vediamo è un cocuzzolo ma sappiamo per certezza che il cocuzzolo appoggia su qualche cosa e che anche se non lo vediamo ci deve essere e lo scopo di questo tipo di fisica è quello di ricercarlo le slide successive ve le lascio qui perché c'è la descrizione di tutti i vari corsi specifici quindi c'è più dettaglio per quelli che non hanno un talk dedicato mentre negli altri li sentirete direttamente parlare per le novità che magari sono più nuove di questo periodo e vi ringrazio grazie grazie grazie